Aggiad dieci Uff, muova sigo Chi è? Chi è? Bella ragazzi, sono Tifrank raga Allora oggi andiamo a fare un nuovo video ragazzi Oggi proviamo a non spaventarci raga Io raga metto Ipotesi che non mi spendo veramente E raramente raga mi spendo Perché onestamente è difficile Spaventarmi, però proviamola a fare Raga, vediamo Dark Condors Warning Sì, sì, ho capito tutto, tranquillo Sette Sei Cinque Ok, è un cinema È un cinema raga Livello 1 Vi raccomando A proposito raga, vi raccomando Se vi spaventate scrivetelo nei commenti Non fate buffo che non lo dite Dovete dirlo E lasciate tanti like se volete un nuovo episodio raga È una foto È una foto Molta Min Cosa Burêtre Bo piuttosto fa più paura sto rumore che se andiamo in sottofondo ma non fanno paura queste cose eh vabbè queste sono solo immagini in livello 1 vabbè livello 1 era facile livello completato ok raga l'avete completato tutti quelli che non si sono spaventati ma non fa paura onestamente livello 2 non mi piace il buio però no 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 WTF 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 10 ok l'abbiamo passato raga però c'è la luce così dal nulla livello 3 vediamo ok che cazzo fa paura sta cosa ma raga poi fatemi sapere se avete paura cioè per adesso niente di che ho già 10 buon figlio chi è chi è chi è chi è no raga no raga non potete capire fatemi vedere una cosa ho sentito bussare raga pensavo alla mia porta ma non vorrei che è stato il video miglia raga pensavo che era me vediamo vediamo se si sente no raga c'è qualcosa che non va com'è possibile raga aspettate no raga non ci no raga vi giuro allora raga voi voi ragazze vi dovete mettere le cuffie e ascoltate raga proprio il video con le cuffie al massimo sembra che vi bussano a casa vostra raga cioè ma mi ha preso per pazzo perché poi sono uscito qua fuori ho detto chi era ho detto chi è raga e poi dopo raga c'era una signora che ha detto che cazzo sta dicendo questo no raga vi giuro è una cosa impressionante raga il rumore sembra che vi bussano a casa vostra no raga è impressionante raga è impressionante raga ti giuro ma veramente che mi sono messo paura raga minchia raga no cioè raga sembrava vero sembrava che bussano alla porta mia raga vi giuro su dio ve lo posso giurare raga non ci voglio mai credere minchia raga sembrava livello completato comunque raga se vi giuro su dio che sembrava vero infatti raga si vedrà il live che mi sono alzato ad aprire la porta si ma senza i rumori non è che abbiamo paura comunque raga è una cosa assurda raga mettetevi le cuffie e vedete questa live raga vi giuro rimarrete stupiti a 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